Il racconto per immagini di un'opera monumentale, 117 metri di calce bianca e di storia che si stratificano lungo il canale di una centrale idroelettrica. Questo è il secondo murale più lungo d'Europa che si trova a Cerbara, piccola frazione del municipio di Piagge, Terre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Il progetto nasce dalla volontà del Comune di rigenerare spazi in disuso e periferie attraverso l'arte, grazie al progetto Terre Dipinte, finanziato con un bando dell'Unione Europea. Il centro abitato sulla riva del Metauro è una delle possibili zone dove nel 207 a.C. si è combattuta la battaglia tra i romani e i cartaginesi, uno scontro epocale che ha cambiato per sempre le sorti della nostra storia e che l'artista Agrà ha scelto un muro lungo dove raccontare questa storia come in un rotolo storiato. Per la realizzazione ha recuperato un'antichissima tecnica pittorica usata nelle caverne, un muro che con la superficie irregolare, la texture creata dalle piccole screpolature, i colori mutati dal tempo e dalla forza della natura, ispira Agrà e guida il contorno delle sue figure. Soldati, armature, cavalli ed elefanti nascono dal cemento, vera e propria seconda pelle, un'opera che ha impegnato il suo autore per un intero anno di lavoro, maestosa nelle sue misure quanto raffinata nei dettagli, un supporto quello del muro difficile da trattare ma che l'autore ha saputo ascoltare e mettere in risalto lavorando per contrasto, lasciando apparire dal cemento i corpi come se affiorassero dall'acqua del metauro, dipingendo lo sfondo bianco di un emozionante racconto.